Centrale in questa pericope del Vangelo di Giovanni, capitolo VI, questa identificazione di Gesù con il pane vivo disceso dal cielo. Anche nelle pericopi che in queste domeniche abbiamo proclamato, abbiamo ascoltato, ricorre questo tema, ma centrale lo è in questi versetti che sono proclamati in questa domenica. È Gesù che si identifica con il pane, il pane vivo che discende dal cielo e che provoca questo pane un elemento importante, provoca un atteggiamento di disponibilità, di apertura alla vita e di una vita che non conosce tramonto. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e in qual modo potremmo dire l'uomo si nutre e si ciba del pane degli angeli? Attraverso il mistero eucaristico, attraverso l'eucaristia, l'eucaristia dominicale. L'eucaristia che ogni volta che viene celebrata è sempre memoriale di questa vita donata, di questo pane spezzato, di questo vino versato perché è possibile in questo modo avere dentro al cuore, dentro alla propria storia una dimensione nuova che è quella dimensione della vita. È attraverso questo atteggiamento dell'uomo nella disponibilità all'amore di Dio che si alimenta, cresce in lui una dimensione nuova. È Gesù Cristo il pane vero, è Gesù Cristo la vera bevanda. Elementi che sono fondamentali, il nutrirsi, il dissetarsi per la vita dell'uomo. Nella cultura contemporanea, nella realtà che viviamo quotidianamente, spesso l'uomo un po' disorientato, cerca nutrimento, cerca rifrigerio come un mendicante a porte, a luoghi, a crocicchi di strade che non conducono, che non portano ad una vera serenità, ad una vera pace del cuore. Ma tante volte questo può essere addirittura fuorviante, è solo attraverso questo atteggiamento di fede, è solo attraverso questo atteggiamento d'amore nel accogliere l'invito a partecipare di questa mensa che al cuore dell'uomo può essere dato vera gioia, vera speranza nel sapere affrontare la vita quotidiana. Se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. E la vita è generata proprio da questo rapporto di comunione, da questo rapporto di unione profonda con il Signore. Una vita che va oltre la nostra finitudine umana, è la vita che spazia nell'infinito dell'amore di Dio, quando di questo amore infinito nella nostra finitudine sappiamo lasciare che tutta la vita sia abbracciata, che tutta la vita di questo amore possa essere davvero abitata e ciò creerà certamente in noi un atteggiamento nuovo, un orizzonte nuovo, una vita, una pace, una serietà nuova per vivere la nostra quotidianità in una dimensione straordinaria.